oh allora ragazzi bentornati a una scompitante puntata di vizquare game siamo qua con zombie humo hai finito di fare il coglione, non si finisce mai di fare i coglioni cioè praticamente ci siamo messi a fare tutti i video alternativi di sto gioco del cazzo giusto per formare...ma la campagna principale ci sarà non temete giù si sta volando...ma no temete invece no perché per chi la vede a parte le parti dove fai le scansioni le seghine per chi le vede per chi lo vede non è così brutto giocarlo è un ligno meno male che lo giocate voi ma noi ci immoliamo per le altre persone è il motivo per cui è così che si gira ma io cosa ne so di come funziona questo gioco noi siamo senza l'audio ma lo accettiamo lo accettiamo perché non vede un cazzo poi non è colpa mia se usano 25 tasti chiama la casa non è colpa mia se usano due tasti per fare lo stesso movimento ma come cazzo fai vai giù lì scavalca adesso c'è una porta vai lì qui sulla sinistra corri verso la porta la fase di estrollazione è un'intilità rara posso dirlo fine ovviamente vi abbiamo saltato la cazzini iniziale di un'ora perché l'avete segnata due volte no la vedranno nella campagna principale la vedranno con Giulio però sarà prima di queste immagini il mio video è ovvio e tu è la punta di diamante è quello che apre le porte si sa che è come apro le porte io le mie ascialle hanno un odore porco zio ma cazzo ma che schifo ti sono vicino si sta registrando sta registrando cazzo c'ho anche la bocca aperta qui eh Aidan Khan avevamo notato il nome che cos'era? tipo ah no è sempre il primo lo stronzo cosa devo fare adesso? devo aspettare che lui parli vai su palo non c'è modo per farlo saltare? no l'ho fatto io però se vuoi posso fare le scorreggioni con le mani una mappa interattiva con un radar no ridoppia il gioco così tanto poi devo andare qua no? no devi prendere prima il pad l'ho già preso l'ho già preso guarda cazzo è vent'anni che fa sto gioco ancora mi chiedi di cosa devi fare vedi 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 che stuzzica vedi che sono vedi che sto stando più veloce intanto che lui gioca tanto questa parte è semplice io e te Giulio praticamente in diretta discuteremo dove vuoi la pizza per me è uguale basta mangiare in questo momento giuro no non è uguale per me si non è uguale perché devono avere la pizza con tutto no beh su fammi partire cazzo a me non è che mi faccio così tanti problemi che tanto se non erro la pizzeria tu sai chi in tu sai dove è chiusa te lo ricordi l'ultima volta ci hanno bellinato cazzo vero vero quindi rimane la pizza ostia per me è uguale nel senso che in questo momento mangerei anche il polistirolo condito ma adesso è un po' rassurro ecco ci mette un po' d'olio quindi per me non è un grosso problema e beh cazzo basta che gli fate mangiare giuro voglio andare a lavorare domani ti prego su questo non posso farci niente non puoi andare al posto mio non sarei molto credibile perché? ti metti un cravattivo con i vinguini posso andare a un certificato medico volendo perché non sei medico ma va bene beh do rumbo propone mi hai ricordato che mi serve una sveglia domani mattina a che ora ti svegli domani mattina? a una certa a otto e mezzo eh vabbè fortunello io un'ora e mezzo prima alle sei no sette otto e mezzo a meno un'ora figa raga eulero in azione torna nella stanza principale dai un'altra occhiata ai monitor c'è molto lì non è come sei vicino Joe come sei veloce guarda com'è Pro guarda 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 ormai finisce il gioco sembra Flash quando gioca a star secondo me ci siamo talmente fortunati che adesso Joe imbrocca la star giusta e gioca per 95 minuti secondo me fa lo speedrun mi resta con la mano Joe lo propone no fai tutto col tuo dito maledetto Joe c'è il dito Matteo il piede andiamoci da fare ma lo vedi come muove il pad? ma come fate a non iscrivervi voi marrani che non vi siete iscritti? non potete vederlo mi rendo veramente conto che senza vedere il fatto che Joe stia guardando anche sul pad cioè sembrano veramente dei deficienti che cercano di giocare ancora di più del solito perché scudo? perché vedi il personaggio fermo che non fare niente e non capisci perché anche qua mi ti dici cosa sta facendo sto cretino e invece sta guardando di pad perché non vedi un cazzo? appunto io che ho già subito questa cosa posso capirlo minchia ma non si riesce a colpire da qua che sasso te lo scassiare però eh ma si sta arrivando tanto quanti cazzo sono agli altri sono è uno e l'altro è un top continua a squansionare però è gratis eh un gioco fatto per cooperare no c'è quell'altro oh bravo che tempo no non arriva nessuno stai sereno ma muore o no? se comunque posso dire che Joe anche ha sfigato ragazzi gli è capitano di e gli va fuori il range no 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 erano due davvero? ma porco zio ma pensa te frasi è una sfiga posso dirtelo? o io nel video di prima sparando a vanver a tutto il livello ne ho ammazzato uno cosa non così improbabile e ci ha finito il video magari no datti salute va va vada salvare tanto è qua c'è un cazzo aperta quindi ci vado a salvare si orienta come come non lo so una talpa con la linea hanno hanno esatto vabbè che adesso non c'è bisogno no c'è uno zombie qua da dietro la so cazzo la mira di Joe e invece è ancora vivo? ma figure si è vivo ma scusa ma è sì se è one shot o no? a quanto pare no e allora c'è francamente scusami eh ma guardate ma ti pare? a questo punto scusami c'erano cinque colpi di pistola o cinque mazzate in testa? pensa quando avrai le testate nucleari no in realtà in realtà la questione è che se tu lo prendi perfettamente forse ce ne servono tre ah 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 allora è un vantaggio uno che si collega a un certo punto in questo video e se te Joe che dice se tu lo prendi perché tu hai una mente maliziosa capisco che io giù non ti aiutiamo in questo senso ma stimo eccola ah le assi lui che te le fai? ce le ha le assi allora? si vanno praticamente a un cazzo quante volte le avevano utilizzate nella campagna un cazzo ma è perché quindi se ti chiudi dentro ti posero uno se vai al cesso ti chiudi dentro e ti riusciò a cuore questa è una cosa buona e giusta vado a fare fast save per ridarmi vita perché se no micchia sei un vero pro dai ma corri ma che non corre perché è stanco figa ma ci sono gli zombie è poverino però lo porti all'estremo delle sue forze ma che si ammazzi cioè non c'è l'opzione suicida Giulio senti ma a casa tua ti serve qualcuno che lavori cioè non lo so ti mando il corretto non ho capito la domanda non lo so vuoi che spazi faccio cuba faccio anche mia madre è una mansione te la trovano no ma no però pagata a pagamento a pagamento se ci vuoi di pulire le grondaglie le finestre queste cose qua micchia come fuori cose proprio per gli schiavi base le grondaglie sono cose che ogni tanto bisogna fare si ma le grondaglie giù ma invece i tuoi lavori di concetto che fai tu lavori di concetto no si vuoi farmi da analista finanziario ragazzi se vogliamo creare un hedge fund sui bitcoin io sono pronto vabbè allora creare un hedge fund bisogna solo se Joe dice che è pronto ragazzi io già mi immagino a casa sua con 20 monitor che stanno monitorando 8 mercati diversi per fare abitraggi l'avevamo e tutto questo ho fatto scoprire che cosa facciamo nella vita io pulisco la merda lei passa lavare i gabinetti lo snack la mangio ma no sono pieno la mangio così ma ti pare devi anche morire oh tu che vedi l'altro che vedo cose il sito di incontri per escort è un salto di qualità nottevo il sito di incontri tra escort ma lui guarda nel senso non è che parteci guarda siamo proprio a orari embrionali ancora abbiamo ieri geologici e i tempi io mi ricordo che Giulio un tempo diceva chi va a trans dillo andare a trans per sbaragliare la classifica ma era contestualizzata la frase solo che troppo uno me lo spiega no no spiega tanto ci vanno troppo sbatti esatto è come spiegare piedini di trans è troppo complicato solo che piedini di trans potete cercare su google non so se esiste più la storia è questa io e Giulio avevamo un forum su forum free e praticamente era diventato abbastanza famoso ok e ovviamente cosa fai vai a vedere come sta in classifica tra tutti i forum di forum free ad un certo punto prima di noi c'era questo piedini di trans che poi è stato chiuso e c'erano degli utenti che hanno creato riportateci esatto c'erano degli utenti disperati perché non hanno più i loro forum sui piedini di trans e ripeto se cercate su google comunque piedini di trans piedini di trans trovate i post di sta gente che si lamenta scusa non mi ricordo più cosa facevi nel tuo precedente forum pensavo nella mia precedente vita vabbè era sempre videogiochi che roba di videogiochi apri no devi scannerizzare l'ho già fatto hai già fatto scusami non vedo della tv non sento magari ti starà dicendo mi si è impallato windows 98 non c'è qualcosa con la sola imposizione delle mani io non ricordo sto forum non preoccuparti vai vai sorvola sopra siedi chiedi dopo ma cos'era mario con le tette mario bros con le tette era mario bros contro i trans ok era per pochi ci sta se è vero ma giusto yoshi non ti dico se pensi a com'era yoshi povero yoshi eh ma figa sei un huge fan anche tu di nintendo no huge fan no ci ho giocato tanto io dai perchè da nintendo cube no no perchè quando andavo da piccoli in vacanza pieno di cugini giocavo a super nintendo queste cose qua quindi io ma a che console nintendo ti sei fermato fermato? in che senso? io fino al cubo ho giocato fino al cubo scusa la wii non l'hai vuta a casa? wii non è roba per me io sono un giocatore da pad no da pad giocare come i bambini non è una cosa per me cioè per carità mi diverto ma farlo on a daily basis non è roba io ho bisogno del pad oralmente o analmente cosa si vuole ce l'ha anche detto umanualmente bravo carica la mazzata minchia guarda come grida tipo sembra che sarà il trap sembra proprio yeah ma non è esatto la pistola e guarda che gio ormai è diventato hardcore si ma comunque non ha senso sta cosa adesso lui scusa nel forum free è sopra piedini di trans come si fa a mettersi giorgino e zombie you si chiama ma che si sa che ci vuole così tanto per ammazzare dammi il dildo ma ci sono i boss in sto gioco? ti serve il dildo? posso appoggiarlo o ti serve? ci sono i boss in sto gioco? si e come cazzo fai a ammazzarlo? c'è totorina come fai a ammazzarlo? c'è totorina zombie come fai a ammazzarlo? ma non ci sono i boss sono abbastanza sorvali però l'ho copiato l'ho copiato aspetta un attimo ma i veri residenti gli ultimi residenti sembravano tipo la sagra della stronzata ma il primo residenti era ingiocabile aspetta fammi finire serpenti squali c'era di tutto no quello che ti stavo dicendo ma one shotting non sto seguendo il gioco non seguire il gioco siamo qui per dire parla mi sono dimenticato oh godo tantissimo cosa hai detto ci penserò anche se ti mangierò una pizza la domanda è morirò anche morirò anch'io qua vuoi sapere cosa si nasconde? ah no ecco ti stavo dicendo hanno copiato da left for dead perché c'è lo zombie che esplode lo zombie che scorreggia ma che merda e lo zombie che sputa vomitone anche in dead space però left for dead è bello è frenetico di brutto però è bello era bello da giocare in multiplayer e lì si capisce la differenza rispetto a questo gioco è che left for dead viene da dietro si sa glielo ha buttato left for dead è l'esatto opposto perché la pistola base ha colpi infiniti ma è andato? spero bene non capisco se è andato ma si non lo so provo a fare la scansione non da segni naturalmente non da segni neanche da ma no mi sono fatto male veramente ora aspetta uccidi tutti quegli escrementi umani quello lì è quello che mi ha fatto fuori prima io p era anche il carrello vai cazzo armati che lo sforzo sia con te minchia c'è altri proiettili ti rendi conto che in questa tornata di registrazione non abbiamo registrato nessuno e ci avevamo chiesto di essere registrati vabbè paziente salutati salutati saluta solo quello che voleva essere salutato se mi ricordassi il nome giusto 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 stavamo al momento clou eh ma si vabbè la prossima volta saluteremo tutto il mondo questa è l'età che ormai i saluti sono fatti da Matteo no c'è qualcuno che ha chiesto di essere sì sì me lo ricordo me lo ricordo ma purtroppo non mi ricordo il nome Jimmy Jimmy lo storpio non credo fosse proprio io mai giusto se muoio qua sai che inculata pazzesca se muoio qua è un po' godo perchè finalmente nemmo mangiate però no no mi raccomando giusto spingi perchè esce subito ti tiene a raggio di chilometri ma ti è toccato attraverso la porta si è uscito bravo bravo tu però qua ci dà la fenda se decidi artifici mi raccomando eh c'era un po' di gente qua dentro tra cui cicciolina zombificata cos'hai qua ce n'era uno per terra qua su c'è da sinistra uno appeso e uno per terra minchia che memoria ma peso sarà in me ecco la che memoria quello appeso è a destra è quello la quello per terra te ne rendi conto che memoria eh però che mi fa mi trova mettono pure in mezzo alla nebbia se non è in mezzo alla nebbia godi solo fino a metà anche quello anche questo perchè tu quando passi non te ne accorgi vedi sei molto spaventato una cifra bravo metti il culo la pala per piacere come piace a lui qua sembra un po' che stai abusandogli se dovessi sincero ma a lui gli piace ok se ne zombie godi solo fino a metà chiudi la porta è un consiglio che ti do pure? serve? no se non ti barricchi dentro non dire godi solo a metà perchè sennò ti picchio no ma questa è la macchina per la carne per macinare la carne minchia se fosse un vero splatter sai quanti zombie ci macchino aspetta facciamo un secondo video? o pensi di morire? ma quanto siamo? siamo a 15-16 minuti dai finiamo ancora 6 minuti giulio di qualcosa al massimo credo comunque io qualcosa quiche lorren posso dirti la quiche lorren che lì c'è un escremento umano che tra poco ma era incinta povero è vero che ovunque lo colpisci magari sono ciccioni ovunque lo colpisci gli scoppia la testa ce n'è uno in su di là di morti si ce n'è uno che si rianima ti ricordo vabbè lo possiamo dire perchè tanto non è assolutamente questo si rianima si ah siamo agli sboiler sboiler ruba ruba questo dovrebbe essere un altro sboiler c'erano i topi e c'è un'altra che esce da lì da qua si si muove la dietro figa ma che memoria c'è c'è Robocop non aveva sta memoria aveva un disco fisso nel cervello tana che non sei altro poi qui ti incattivisce per essere di genere umano questo gioco veramente guarda l'altro giorno quando due ha tiltato cioè no il problema è che dopo andando più avanti è arrivata non sai dove cazzo andare c'era sua madre e io per un momento ho detto adesso la uccide leggeremo un giovane milanese uccide la madre a sprangate scusate ma quanti colpi gli ho dato tanti e a lei piace essere colpita a lei le piacciono i colpi vai dietro che c'era dello zombie che magari si dirà no qua c'è anche là in fondo no però sono vita piena cos'ho che ho qualcosa inutile no ricordati del bengala che qui potrebbe essere utile cosa è un bengala? a distrare gli zombie? no perché quando canti usi due bengala guarda che là in fondo c'erano zombie che probabilmente si rianima io non vorrei dire vabbè fai come cazzo ti pare negativo devo andare giù negativo negativo oggetto hai fame? cine si o no? cine non sai che dopo deve aspettare che mi devo mettere un pantalone non dire queste cose pensano male monelli cosa avete pensato? vabbè chicca è solo contenta se c'è un momento gay a verità ce ne sono stati a profusione anche ce n'è un altro anche di là mi sembra non c'è uno nel banco frigo? che bello che sarebbe tipo slave impatto criminale cosa c'è là dietro? il banco frigo ma secondo te in una post epidemic c'era una palla o giochiamo a palla dove cazzo è questo oggetto di me? è là dietro in una post pandemic? secondo te i bastoncini di pesce philus si sarebbero un'offerta ma sarebbero degli zombie dove che devo andare? c'era qualcosa qua è tipo lì vuoto vedi che c'è qualcosa secondo me è un potenziamento no è un fucile cazzo potenziamento gettata a me lì non è un fucile ci sono degli zombie io gli staccherei la testa nel dubbio tagliatele la testa tagliatele le palle non diceva così dove deve andare? perché Alice non aveva le palle c'era un altro zombie di là tagliatele le palle lo suona male perché tu hai visto Alice nel paese del trans io non l'ho visto tu probabilmente l'hai girata dove deve andare? cazzo qua là sotto ma figata ci hai giocato mille volte là sotto ricordati che vai a daccherare sta cazzo di telecamera non c'è nessuno ma poi arriveranno e poi devi correre tu lo sai c'è un punto dove devi correre come devo correre? dopo che sei esci da sto cazzo di supermercato ci sono quelli rock ti aiuto se vuoi devi correre devi fare tipo gli speedrun per una volta in vita no in fondo questo me lo ricordo vedi come è più severo quando non gioca lui? ma no ma perché no era lì quel coso rosso ma no ma perché tu non hai idea io falli però poverino Giorgino cioè bisogna dire è diventato bravo ma non si sa cioè si perderebbe ti giuro si perderebbe nel water di casa sua cazzo io mi chiedo come faccia tipo la sua madre doveva mettergli tipo un filo il filo blu ti porta in camera il filo rosso in cucina se ti scappa da cagare fra fra stai zitto posso dire cazzate cosa tolgo perché ci sono le molotov togliere le pistole il bengala ne avrà bisogno probabilmente ma cosa ne faccio ne butto via uno no togliere la mangiaccia qualcosa sono pieno qual è quello che dà di meno non mi ricordo questo set questo l'extra allora prendo una moto se un pio mollotov ah un classico una bella adesso arriva qualcuno dalla sua scala da sopra le scale le scale dove sono? dalla tua destra ok già dovresti sentire qualcuno che fa che mi ricorda un po' vagamente il mio datore di lavoro quando cerca di dirmi qualcosa la persona espressiva sai per un soffio anche adesso per un soffio aspetta che venga c'è il gradino tu i gradini non sapete avete un rapporto conflittuale tu i gradini senti chi parla ma anch'io infatti ma io l'uomo che non sapeva scendere le scale ma non muore più è più eccitante di quella volta che mi sono dimenticato come ci si siede dove devo andare? qua allora chiudi la porta lì che non si sa mai che hai visto prima e riporta qui il culo senza farti ammazzare sarebbe una cosa di vedere le porte seriamente io non mi ricordo se qua c'era qualcuno in gioco francamente quindi fai la scansione guarda te la faccio io ma quanto si stanno andati avanti sto gioco? ma guarda che è lungo lunghissimo pure? si qui devi correre ti ricordo che devi correre ma me l'ha rimuovi devi correre perché devo correre? non mi ricordo cosa c'è perché c'erano quelli elettrici che svegliavano tutti pausa taglieremo? no c'era il primo video vaga alla prossima per vedere quanto